Un ben ritrovato a tutti carissimi in casa Renault e Dacia, io sono a Carmagnola e quando dico Carmagnola dico naturalmente Varca. Varca presente a Carmagnola dal 1976, tutta la gamma Renault-Dacia in pronta consegna da venire assolutamente a vedere e anche ad acquistare. E in primis il mio saluto va a Luca Costantini, ciao. Buongiorno Sonia e buongiorno ai telespettatori. Non solo Dacia, non solo Renault, ma oggi la puntata è dedicata soprattutto alle proposte chilometro zero. Sì assolutamente, Daniele poi presenterà una vastissima proposta di usato chilometro zero e anche una piccola novità, diciamo natalizia, perché abbiamo in anteprima nuovo Captur, non possiamo ancora svelarlo, però comunque ce l'abbiamo qui in anteprima e vi aspettiamo per presentarvelo. Allora venite a vederlo e anche ad acquistarlo, si può fare anche questo prima dell'uscita ufficiale, perché no? Ma non dimentichiamo le tante proposte Renault Selection presenti qui da Varca. Assolutamente, abbiamo proposte, come diciamo, chilometri zero, aziendali o rientro leasing, quindi comunque macchine garantite ancora da casa madre, perfettamente tenute e con pochissimi chilometri. A questo proposito io cedo il microfono prima a Paolo e poi a Daniele e voi naturalmente rimanete in nostra compagnia e seguite attentamente la puntata perché le offerte sono davvero imperdibili, firmate Varca. Ciao Sonia, iniziamo subito con la nostra nuova Renault Clio. A dicembre super offerta per voi senza anticipo a soli 199 euro al mese, con 36 mesi di furto, incendio, attivandalici, cristalli, eventi naturali, 36 mesi di garanzia, 36 mesi di pack service. Venite a scoprire e a provare il nuovo motore 1000 da 100 cavalli e da dicembre anche GPL. Macchina Europa 2020, tanti allestimenti, tanti colori, nuova tecnologia, nuovo design. Vi aspetto, venitemi a trovare. Super offerta su Dacia Duster, a soli 5 euro al giorno, senza anticipo, versione benzina con motore 1000 da 100 cavalli e non solo, con un euro in più, trovate anche la versione GPL. Venite a scoprirla a dicembre con immatricolazioni entro dicembre, ma le promozioni non finiranno neanche a gennaio. Venite a scoprire con pack service, 3 anni di furto, incendio, attivandalici, cristalli, eventi naturali e 3 anni di garanzia. Twingo, chilometro zero, super offerta che troviamo solo alla Varca, a 10.950 euro, GPL, le ultime rimaste, venite a vederle, venite a provarle qui da noi. E le offerte su chilometro zero non finiscono qui, anche sul nuovo Dacia Duster, chilometri zero, a partire da 15.000 euro, versioni benzina, GPL, diesel, vasta gamma di colori. Venite a provarla, venite a scoprirla, vi aspetto. Ciao e ben ritrovati dal nostro piazzale Varca con i nostri veicoli d'occasione. Iniziamo la nostra presentazione con questa fantastica Clio quarta serie, ideale per neopatentati, a un prezzo incredibile, di soli 6.000 euro. Mostriamo insieme questa Renault Clio, anno 2018, chilometri 12.000, a un prezzo incredibile, soli 12.500 euro. Renault Clio, versione Sporter, 1.5 DCI da 90 cavalli, a un prezzo incredibile, tua, a soli 12.490 euro. Nostra nuova nata, Clio, quinta serie allestimento Intense, veicolo full optional, con faro full LED pur vision, e soprattutto con i nuovi aiuti dinamici alla guida, tua, a un prezzo di 18.900 euro. Cresciamo ancora con questa Renault Captur, anno 2017, con soli 60.000 chilometri, a un prezzo incredibile, soli 13.500 euro. Renault Megane Sport Air, anno 2018, veicolo splendido, allestimento business, full optional, a un prezzo incredibile, soli 13.900 euro. Passiamo ora sul marchio Dacia, con Duster, allestimento Ambience Family, alimentazione GPL, a un prezzo incredibile, soli 10.500 euro. Ovviamente in Varca non mancano le proposte usate degli altri produttori europei, ad esempio questa super proposta, Ford Fiesta Vignale, allestimento full optional, miglior prezzo nazionale, al momento disponibile, 15.490 euro. City Car Perfetta, Fiat Panda, anno 2018, a un prezzo incredibile, soli 10.300 euro. Fiat 500L, spaziosa ed elegante, con cerchio in lega diamantato da 16 pollici, a un prezzo incredibile, soli 13.990 euro. Bene, questa era soltanto una breve rassegna, in realtà qui da Varca c'è molto di più, venite a scoprire tutte le altre chicche di Renault Selection, ma grande affidabilità, lo ricordo e lo sottolineo, riguarda anche l'assistenza, la professionalità che deriva da questo reparto che noi menzioniamo. Certo, sogno, infatti voglio ricordare che noi oltre a essere una concessionaria ufficiale Renault abbiamo anche l'assistenza ufficiale che vuol dire quindi ricambi, vuol dire officina e vuol dire anche gomme. Tant'è vero che noi forniamo tutti i marchi premium, quindi le gomme migliori, estivo e invernali, cambio gomme e anche deposito invernale o estivo delle gomme stesse. E siamo in promozione adesso quindi con la casco gratuita sui pneumatici, quindi se venite a cambiare i pneumatici da noi e aveste un sinistro o vi capitasse di bucare una gomma, avete anche la casco sopra. Molto interessante questo servizio che la Varca vi fa, approfittatene dunque ma venite a scoprire anche tutta la gamma Dacia Renault in pronta consegna e venite a scoprire il nuovo Captur. Detto questo non ci resta che fare gli auguri di buone feste diciamo. Buon Natale a tutti, buone feste. Grazie a voi per l'ascolto, grazie a Luca Costantini, buon proseguimento e come sempre linea alla regia.